Qui il voto in Russia, ora la politica interna. Si intensificano i contatti in vista dell'elezione dei presidenti e delle camere alla fine della settimana. Dai 5 Stelle Di Maio sente i segretari di partito, da tutti responsabilità al confronto. Con Salvini non abbiamo parlato di nomi. Francesco Mesano. Di Maio chiude il suo giro di contatti con il leader delle forze politiche nel pomeriggio. Poi sul blog dei 5 Stelle pubblica il resoconto. Martina, Brunetta, Meloni e Grasso da loro spiega è arrivata una disponibilità a proseguire il confronto attraverso i capigruppo per individuare profili all'altezza del ruolo, non solo per le presidenze di Camera e Senato, ma anche per le altre figure che andranno a comporre gli uffici di presidenza. Paragrafo a parte per Salvini. Per riferire della telefonata, la seconda, dopo il voto, Di Maio sceglie la stessa formula utilizzata dal leader della Lega nel suo comunicato. Pur non affrontando la questione nomi e ruoli, abbiamo convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima. Vogliamo che la scelta dei presidenti avvenga nella massima trasparenza nelle interessi dei cittadini che aspettano un Parlamento che risolva i problemi del Paese. Dalle altre forze politiche abbiamo trovato disponibilità a proseguire nel confronto. Non vogliamo scambi di poltrone, ma cercare le persone migliori per questo ruolo fondamentale per i cittadini. Partita aperta, Di Maio ha stabilito i suoi paletti, no a indagati e condannati per le presidenze delle Camere. Il movimento punta a Montecitorio, ma le condizioni poste sembrano rendere più difficoltosa l'intesa con la coalizione di Salvini, Berlusconi e Meloni, tenendo in teoria la porta aperta al PD. Fermo restando, chiarisce il leader 5 Stelle, che le intese sulle presidenze delle Camere non si applicheranno automaticamente a un nuovo governo.